Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, in questo video qua siamo in uno degli altri video dove gioco con persone differenti in questo video gioco con mio fratello perché appunto lui mi sta aiutando a portare avanti sia questo account che l'altro account e supereremo le 15.800 coppe io direi di iniziare con il far salutare mio fratello perché appunto anche lui farà parte di questo video ciao ed entrare a fare due partite in sopravvivenza mettiamo entrambi pronto ed entriamo andiamo controlliamo l'intorno c'è qualche cassetto o qualcosa io non vedo niente ho visto un colpo di Eugenio e guarda al centro in un valutro ok io sto prendendo una cassetta lagga un pochino qua lagga un pochino non morire io c'ho due power up già tre squadre rimanenti è morto un Mr. P è morto un Mr. P e un Shelly e anche un 8 bit dai ciao ok e vabbè le ho portate proprio in faccia ho colpito sia l'orso sia Penny sia con la nita la nita ok due squadre rimanenti e quindi abbiamo superato le 15.800 coppe qua sotto io non posso fare niente eh no questa qua mi sa che è secondi eh eh direi eh vabbè aiuta 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 sto arrivando sto salendo io qua c'ho una torretta eh io qua c'ho una torretta ma ti schiappa guarda ti schiappa voi erano andati contro di me cosa volevano da me altri vai sotto? si sto andando ok vai 4 3 2 1 perfetto no 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 mi sa che c'aveva forse qualche gadget o qualcosa perché mi ha bloccato quello vabbè vabbè seconda posizione GG io direi di fare di andare con la seconda partita vai EMZ ha 528 coppe punzica punzè punzica punzè punzica punzè sceglie a 512 coppe e vamos allora due casette io vado qua te o la si si sto andando ed è invece un corvo è pure un bo speriamo che non abbia il gadget perché con il gadget si può ricaricare la vita cioè la vita la la super io allora io scappo perché ho paura che sennò andiamo KO no mannaggia ti ha mangiato ti ha ammazzato un corvo ti ha mangiato è morto anche un tic e siamo in 4 squadre rimanenti te resta qua ok e vai pure sotto vai pure sotto eh no ci sono quelli quante stanno là ma che cosa è quella cosa eh Brock da 9 un team da 9 mannaggia ma che è un gadget no 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 proprio una skin che fa così oh mannaggia vaffancino attento eh beh terzi io direi che potremmo fare anche un'altra partita però ci hai visto che è durata poco ma noi andiamoci vai al frigo lo ulti sparò a quello vai gli soliti scherzi di mio fratello andiamo allora vai andiamo così no subito al centro subito al centro no no io non non so io non faccio questa cassetta e poi quell'altra non voglio andare troppo aggressiva perchè poi ho paura di fare meno e di non mi rompere vedi non rompere lagga un pochino dai mic vuoi non rompere oh sa sempre dove sono questo dai mic c'è apparentemente la ulti ma c'era 400 di vita no mi lag qua c'è un team buonissimo buonissimo hai ammazzato uno hai ammazzato un bibi grande ora però ci crepo non è vero un tic ha ammazzato un mister p dettagli sei fatti dettagli ecco questo qua ti fa guadagnare mille di vita ogni secondo questo è qua no madonna è finita vabbè oh quel quel dinamix sta un po' rompendo vediamo a pushare quello la quel team la li spacchiamo eh no 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 non ci ho ripensato è morto un mister p e siamo ancora in cinque squadre altri dettagli mi sei no 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 team inutile mi ha laggato mi ha laggato si si no 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 va bene così e vabbè e un troll assurdo vabbè io direi di di farne un'altra va di farne un'altra va proviamoci siamo a il 9 9 ma si ma la mi ha laggato non capivo più niente questa è la vera spiglia infatti poi mi si è aperto il costo della mi si è aperto il costo della registrazione quindi non ho capito inutile si ma quel dynamic la mi ha fatto esplodere e poi mi ha cominciato a laggare e non capivo più niente avendo solo 982 di vita la safe me ne leva mille quindi sono morto mi sta facendo questa cassetta è morto un corvo e anche un leone sono morti due leggendari dettagli 3.0 3.0 assurdo che stai facendo te ah al centro è morta una bibi oh quel dynamic ha fatto due kill e non vabbè no qua non sono qua 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 non ci vengo vabbè oh quel dynamic ha fatto un'altra kill ha ammazzato nuovamente il corvo dai che l'ammazzo no 500 di vita no ti ha ammazzato questo è il vero sfida ti ha ammazzato un carl vabbè come si dice sfida in inglese i dettagli e ancora altri dettagli andiamo e allora allora io la ulti si è molto buono il bibi la deve andare giù oppure devi dire qua questo pocio pocio io non sono qua lagga troppo è morto anche un bo è morto anche un leon ed è morto anche un corvo e si è morta anche te ti mancano 8 secondi al respawn 6 io la ulti la città quel car che ti va ammazzato all'inizio no il cover è rinanato quattro volte magia quasi ci buscia quello la dai io vorrei arrivare almeno a secondi per almeno arrivare alle 15.800 se va giù questo team è perfetto io lo tengo la e vabbè non importa ci siamo divertiti da alessandro e un altro per la al fede è tutto è anche se non siamo arrivati alle 15.800 coppe però ci siamo comunque divertiti io una cassetta trovo leon no non trovo niente nei miei sogni io direi di mettere like di vedere di comunque aver visto il video fino all'ultimo quindi grazie di aver visto il video direi di iscrivervi lasciare attivare la campanellina per non perdere nessun video e da ne è tutto ci vediamo in un prossimo video bella